Sarà varata questo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri la manovra da 24 miliardi e mezzo. Ci saranno diverse novità, fra quelle dell'ultimo ora la stabilizzazione di 3.000 medici e 4.000 infermieri, anche se sono confermati i tagli negli aumenti alla sanità, definito anche un pacchetto previdenziale da inserire nel bilancio 2017. Tra i requisiti per anticipare la pensione, un reddito massimo di 1.350 euro e 36 anni di contributi, norme che scatteranno dal 1 maggio del 2017. Il Ministro della Difesa Pinotti ha confermato l'invio di soldati italiani al confine fra Lettonia e Russia nel 2018. La missione che avverrà in ambito Nato ha suscitato l'ira di Mosca, ma anche quella delle opposizioni in Italia. Il Ministro degli Esteri Gentiloni ha ribadito che si tratta di decisioni in realtà prese da tempo e che non hanno nulla a che vedere con le tensioni di questi giorni sulla Siria, oggi a Lausanne, atteso vertice tra Russia e Stati Uniti. Oggi a mezzogiorno a Milano, l'ultimo saluto a Dario Focco, una cerimonia laica sul Sagrato del Duomo. Nel capoluogo Lombardo sarà lutto cittadino al termine del funerale. La salma del premio Nobel sarà tumulata nel famedio del cimitero monumentale, accanto alla moglie, Franca Rame. Sabato di calcio con anticipi importanti in Serie A allo Stadio San Paolo va in scena nel primo pomeriggio il match tra Napoli e Roma, una sfida che dovrebbe designare la squadra inseguitrice della Juventus nella corsa allo scudetto stasera. Proprio i bianconeri tenteranno di allungare in testa la classifica, ospitando l'Udinese alle 18. Si gioca anche Pescara-Sandoria. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del Tg La Sette. Allora, nel primo pomeriggio è convocato il Consiglio dei Ministri che deve varare la manovra economica per il nuovo anno. C'è da far quadrare i conti, 24 miliardi e mezzo vale la manovra. E naturalmente il Governo ha il problema di quanto deficit potrà esserci, cioè di quanta flessibilità è stata trattata con Bruxelles. Questo per quel che riguarda i numeri. Mentre per quel che riguarda i lavoratori, ad esempio, ieri è stata una giornata in cui si è parlato molto dell'Ape, l'anticipo pensionistico, il Governo ha lanciato le sue idee che non piacciono a tutti i sindacati. Oggi è il giorno del varo della manovra da 24 miliardi e mezzo di euro. Dal Consiglio dei Ministri uscirà il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles e la prima cifra che salterà agli occhi sarà quella relativa al deficit. Non sarà al 2,4% come avrebbe voluto il Governo, ma sarà compreso tra il 2,2 e il 2,3%. La flessibilità su migranti e ricostruzione post-sisma, cioè, ammonterà ad una cifra compresa tra i 3 e i 5 miliardi. Da dove verrà posizionata l'asticella, naturalmente dipenderà anche l'entità della revisione della spesa, che dovrebbe aumentare rispetto ai 2,6 miliardi indicati da Padoan, probabilmente anche grazie all'incremento di un solo miliardo di euro rispetto ai due messi in conto del Fondo Sanitario Nazionale. Per quanto riguarda i provvedimenti contenuti nella manovra, l'ultima entrata potrebbe essere, a proposito di sanità, la stabilizzazione di 7 mila tra medici e infermieri. Poi ci saranno il già programmato taglio dell'IRES, il pacchetto Industria 4.0, lo sblocco del contratto degli statali e il capitolo pensioni, dall'intervento sulle quattordicesime al piatto forte sul tema l'anticipo pensionistico, che partirà dal 1 maggio 2017 e che è stato al centro dell'incontro di ieri tra Governo e sindacati. I disoccupati, i disabili, i parenti di disabili e alcune categorie di persone che svolgono lavori usuranti potranno usufruire dell'ape agevolato, non andranno incontro, cioè ad alcuna penalizzazione, purché il loro futuro assegno pensionistico sia inferiore ai 1.350 euro lordi e purché abbiano maturato 36 o, nel caso di disoccupati, disabili e parenti di disabili, 30 anni di contributi, limite molto più alto dei 20 prospettati ai sindacati in occasione dell'incontro del 28 settembre scorso. Coloro che invece decideranno di andare in pensione fino a tre anni prima del limite anagrafico previsto dalla legge Fornero beneficeranno di una sorta di prestito da restituire in 20 anni con una penalizzazione sul futuro assegno compresa tra il 4,5 e il 4,7% per ogni anno di anticipo. Capitolo, lavoratori precoci. Coloro che hanno almeno 12 mesi di contributi versati prima dei 19 anni e 41 anni di lavoro alle spalle potranno andare in pensione nel caso siano disoccupati senza ammortizzatori sociali, disabili o rientrino nelle categorie previste per l'APE social. Intanto l'Istat in Italia ha dato i numeri relativi però a due anni fa per quel che riguarda un mondo che in Italia fattura una cifra enorme, 211 miliardi. Che cos'è? È in realtà il sommerso, quello che teoricamente non è visibile, e le attività illegali. Sono cifre questa massa di denaro, 211 miliardi, che però rientrano nei conti del PIL. Cerchiamo di capire meglio. 211 miliardi di euro, un giro d'affari nell'ultimo anno ulteriormente aumentato. In un paese dove la crescita stenta al debito pubblico e alle stelle c'è un settore che non conosce crisi, il sommerso. A dare la stima ufficiale è l'Istat, che traccia la mappa delle attività anche illegali che sfuggono al fisco. La fetta più rilevante di un settore che costituisce il 13% del prodotto interno lordo è la sottodichierazione che da sola pesa per 100 miliardi. Omissioni su fatturati e costi che alleggeriscono non di poco le dichiarazioni dei redditi di soggetti e aziende che spesso ricorrono al lavoro nero, dichiarando un numero inferiore di dipendenti. Sono infatti 3 milioni e 700 mila i posti a tempo pieno del tutto irregolari in Italia, una cifra che potrebbe essere sottostimata. Ci sono poi le attività propriamente illegali che al fisco non si potrebbero dichiarare neanche volendo, in vetta droga e prostituzione. Un patrimonio da 17 miliardi che comprende anche contrabbando di sigarette. Dati difficili da rilevare con precisione, per questo l'Istituto di Statistica ha creato una categoria ad hoc intitolata Altro, che non significa poco, perché qui si parla di circa 18 milioni di euro costituiti dagli affitti in nero, ma anche per esempio dalle cosiddette mance al ristorante, in albergo o dopo un tragitto in taxi che tutte sommate costituiscono un vero e proprio tesoretto che sfugge alle casse dello Stato. Illegalità che in ogni caso, secondo le nuove regole di conteggio europee, concorre alla crescita, quella dei parametri di Bruxelles da gestire con le manovre, in quanto, si legge nelle direttive, contribuisce all'accumulazione tramite capitale intangibile di capacità produttiva, criminalità compresa. Ieri ha suscitato molte polemiche, la notizia che in realtà si conosceva già da luglio, da luglio scorso, che ci sarà una partecipazione italiana, 140 soldati, alla missione che la Nato compirà a partire dal 2017-2018 nei paesi baltici, esattamente in Lettonia. Qui arriveranno 4.000 militari dei paesi dell'alleanza a sostegno e a dimostrazione della compattezza e della solidità del patto atlantico. Ci saranno anche 140 militari italiani e la cosa ha suscitato da una parte le ire di Mosca e dall'altra la polemica forte contro il governo da parte delle opposizioni. Governo che dice, ma in realtà già si sapeva tutto e soprattutto non è un atto stile nei confronti della Russia. La notizia arriva da un'intervista a Jens Stoltenberg, segretario generale dell'Alleanza Atlantica, che annuncia che nel 2018 4.000 soldati della Nato verranno schierati in Lettonia, sul confine russo. 140 saranno italiani che partiranno già nella primavera del 2017 e saranno distanza a riga, 200 km dalla frontiera con la Russia, in sostegno al contingente esistente di Camp Dazi, composta da militari americani, canadesi, britannici e tedeschi. Un'azione che lo stesso Stoltenberg definisce più che altro simbolica e comunque decisa nel vertice Nato di Varsavia dello scorso l'Urlo. E' allora puntualmente riportato dagli organi di informazione. Ma la conferma scatena comunque a una durissima reazione della Russia. Quella della Nato è una politica distruttiva, dice una portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca. La risposta del segretario generale Nato nessuna replica della guerra fredda, si tratta di una manovra simbolica. Per il governo italiano parla il Ministro della Difesa Pinotti che prova a spiegare lo scenario internazionale e a giustificare le scelte occidentali perché, dice la Russia, dal 2000 ha triplicato le spese militari. Nonostante le puntualizzazioni, comunque le opposizioni in Italia attaccano il governo. Nell'Italia a sovranità zero di Renzi e del suo tutor napolitano, il segretario generale della Nato, Stoltenberg, può permettersi di venire a Roma per annunciare in un'intervista, lui al posto del governo, l'invio di un contingente di soldati italiani al confine con la Russia nel 2018. Solo dopo mezz'ora Pinotti e Gentiloni hanno confermato i fatti. E' quanto scrive Beppe Grillo nel suo blog. Il tema della subalternità del governo italiano viene evidenziato anche da altri gruppi di opposizione, sia di destra sia di sinistra. Qui si aggiunge anche la voce di un ex premier, Enrico Letta, che dice «francamente ho più di un dubbio sul senso dell'improvvisa scelta di schierare truppe Nato in Lettonia al confine con la Russia». E Matteo Salvini attacca una follia antirussa. Chi fa prove di guerra con la Russia, spiega il leader della Lega, è matto o in mala fede. Armi e soldati usiamoli contro l'Isis, non contro chi la combatte. E Gaspari chiede una riunione immediata della Commissione Difesa del Senato. Potrebbe parlarsi anche di questo nel vertice, nell'incontro che ci sarà la prossima settimana, a partire martedì, tra Renzi e Obama. Sì, perché come ha annunciato la Casa Bianca, ci sarà quel giorno una visita ufficiale. Recita la nota che Barack Obama e la First Lady attendono a Washington il nostro Premier e la moglie per uno scambio di vedute, si legge appunto nel comunicato, sul futuro dell'Europa e la cooperazione attraverso una serie di interessi condivisi dalle sfide del cambiamento climatico e della crisi globale dei rifugiati alla promozione della sicurezza globale e della crescita economica inclusiva. Quindi tanti temi, ma ci saranno sicuramente anche le tensioni internazionali che contrappongono Occidente e Russia. E veniamo a Dario Fo questa mattina, a mezzogiorno, sul Sagrato del Duomo. Ci sarà la cerimonia laica con l'ultimo saluto al Premio Nobel per la letteratura, che sarà poi sepolto nel famedio del cimitero monumentale, accanto alla sua franca rame. L'ultimo maggio a Dario Fo Milano glielo renderà a mezzogiorno con una cerimonia laica sul Sagrato del Duomo. Il feretro rimarrà esposto nel foyer del piccolo teatro Streller. Accanto i carabinieri in alta uniforme e una foto dell'artista che lo ritrae sorridente. A fianco anche uno sgabbello, coi pennelli, gli oli, le tempere e uno straccio sporco di colore. Tra le corone di fiori quella di rose, bianche e rosse, inviata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quella del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e quella della Sindaca di Roma, Virginia Raggi. Poco prima di mezzogiorno il corteo funebre attraverserà il centro della città per arrivare in Piazza Duomo. A ricordarlo saranno il figlio Jacopo e l'amico di sempre, Carlo Petrini, il patron di Slow Food. Sarà sepolto al famedio, il panteon del cimitero maggiore di Milano. Il sindaco Giuseppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino, ha detto che Dario Fo è stato uno dei migliori interpreti della storia del nostro tempo e la città non dimenticherà i suoi insegnamenti. Ha dato molto di più di quello che ha ricevuto e la città cercherà di rimediare prima possibile, ha detto ancora il primo cittadino. Gli sarà intitolata la Palazzina Liberty che dal 1974 all'80 ospitò gli spettacoli del suo collettivo teatrale La Comune, fondato proprio dall'artista e la moglie Franca Rame. Dario Fo, premio Nobel, regista, pittore e scenografo, aveva 90 anni e da una quindicina di giorni era ricoverato in ospedale per problemi respiratori. Ha lavorato e dipinto fino all'ultimo. Pochi giorni fa aveva presentato nella sua casa milanese il suo ultimo libro, Darwin. E a proposito di Nobel per la letteratura, la notizia che Bob, Nobel per la letteratura che è andato a Bob Dylan, storia per la quale ci sono ancora polemiche e per la verità l'Accademia di Svezia ancora non è riuscita a contattare il cantautore statunitense. Ma ora facciamo il punto sull'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia e che a quanto pare andrà avanti anche oggi. Il maltempo che ieri ha colpito soprattutto la Liguria con una violentissima tromba d'aria si è spostato in serata verso la Toscana dove anche per oggi è stata emanata un'allerta arancione. Rischio idrogeologico sempre con allerta arancione anche per il Lazio, Lombardia e Veneto. Forti eventi temporali sono previsti anche al centro Italia, mentre al sud sarà ancora a ritorno d'estate con temperature oltre i 30 gradi. Ieri sera un'escursionista svizzera è stata a soccorsa all'isola d'Elba, sorpresa dal maltempo con un figlio di sei mesi. A Roma un albero è caduto su uno scuolabus causando feriti, tra i quali una bambina. La situazione più critica si è registrata in Liguria dove era stata lanciata un'allerta rossa. Una tromba d'aria si è battuta su Genova colpendo la fascia costiera, soprattutto la zona tra Nervi e Recco. Molti danni causati dalla pioggia e dal vento forte che in alcuni punti ha superato i 160 km rari. Il bilancio è di una decina di contusi non gravi. Tetti delle case scoperchiate e centinaia di abitazioni sono rimaste senza energia elettrica anche nel Tiguglio. In serata sono stati soccorsi 350 passeggeri che erano rimasti prigionieri alcune ore su un treno intercity a Zoagli, tra Chiaveri e Rapallo, lungo la linea ferroviaria a Roma 20 miglia bloccata assieme alla statale Aurelia dopo il crollo di alcuni alberi lungo i binari. Il Lombardia è stata interrotta per una frana alla statale dello Stelvio. Una tromba d'aria accompagnata da un vero e proprio nubifragio ha causato danni ingenti a Lecco. Sono state registrate intense e maraggiate in Sardegna. Disagi in Toscana dove, a causa della caduta d'alberi, è stata interrotta per una quarantina di minuti la linea ferroviaria via Reggio-Lucca e con il maltempo è comparsa la prima neve della stagione in Valle d'Aosta e Piemonte. E comunque siamo nel campo abbastanza della normalità. Negli Stati Uniti un sondaggio nazionale dice che Hillary Clinton è in vantaggio di sette punti sul suo rivale Donald Trump si avvicina. Il voto di martedì 8 novembre è quello per il Presidente degli Stati Uniti e in campo scende anche il titolare attuale, Obama, che dopo due mandati dovrà lasciare Washington. Nelle ultime battute di campagna elettorale americana è Mr. Obama ad alzare i toni. In gioco c'è la democrazia, la tolleranza, la civiltà. Sono in gioco tutti i progressi che abbiamo fatto negli ultimi otto anni. Tuona così il Presidente uscente nell'Ohio, stato cruciale nella corsa per la Casa Bianca, uno dei pochi dove il candidato repubblicano ha ancora una posizione forte, dove la sua immagine non sembra scalfita dalle accuse di molestie sessuali che continuano a moltiplicarsi. Al coro femminile si aggiungono le voci di Christine Anderson, un'ex modella che al Washington Post rivela come nei primi anni 90, quando era appena ventenne, incontrò il candidato repubblicano in un locale notturno di Manhattan e lui arrivò a palpeggiarla sotto la gonna mentre lei conversava con un'amica, un episodio che durò meno di un minuto ma che rimasse impresso nella sua mente, tanto che l'ha spinta oggi a raccontarlo in pubblico, allungando così la lista delle accusatrici. A inclinare le immagini di Trump c'è anche Summer Zervos, una concorrente del reality show del Magnate, che ha raccontato di come fosse stata molestata da Trump durante un incontro di lavoro. Lui riferisce la donna alle chiese di sedersi accanto, quindi la ferrò a una spalla e cominciò a baciarla in modo molto aggressivo, toccandole il seno. Accuse che Donald Trump in un comizio in North Carolina respinge diridendo le parole e l'aspetto fisico delle accusatrici. Il discorso di Obama segue quello efficace ed applaudito di Michelle, il marito se n'è detto orgoglioso e ha ribadito ancora una volta che un'America migliore c'è e l'ha esortata a votare. E siamo allo sport, oggi è una giornata di anticipi, parliamo naturalmente di calcio, se ne giocano ben tre. Il più importante in qualche maniera è quello del primo pomeriggio, si affronteranno a Napoli la squadra campana e la Roma. Perché è importante? Perché da questa partita dovrebbe uscire il nome della squadra più titolata per contendere la corsa al titolo alla Juventus, che giocherà in serata contro l'Udinese. Il campionato è appena all'ottava giornata, eppure Napoli-Roma viene presentato già come lo spareggio per designare la sfidante della Juventus. In un San Paolo gremito si prevedono circa 50.000 spettatori, nonostante l'assenza dei tifosi giallorossi per motivi di ordine pubblico, i partenopei devono riscattare la sconfitta di Bergamo, che li ha spinti a meno 4 dalla vetta. Dopo il KO con l'Atalanta, Sarri era stato accusato di avere già alzato bandiera bianca nella corsa al titolo, ma ieri il tecnico toscano ha chiarito l'equivoco usando un vernacolo forte e diretto. Farla passare come una resa mi ha fatto girare un po' il c***o, sinceramente. Ma in maniera pesante, perché la mia storia dice che io non sono una persona esserrente. Con Milik fuori per la rottura del crociato sinistro, Sarri darà fiducia a Gabbiadini, abbandonando l'idea di Mertens falso centravanti. Il belga lascerà spazio a Insigne nel 4-3-3 completato da Cagliecon. Improvvisa emergenza invece per Spalletti, che ha perso Strotman e Bruno Perez, entrambi fermati da problemi fisici. Scelte obbligate quindi con Florenzi terzino, Paredes davanti alla difesa e Nainggolan sulla tre quarti insieme a Salah e Perotti dietro la punta a Dzeko. Loro hanno un punto più di noi, per cui qualcosa di meglio hanno fatto. Vogliamo confrontarci. Come è stato l'anno scorso? Al big match delle 15 seguirà Pescara Sampdoria alle 18, prima di Juventus sudinese l'anticipo serale, che potrebbe agevolare la prima fuga scudetto dei bianconeri di Torino. Contro i friulani, affidati all'ex del neri, subentrato a Iachini, Allegri farà riposare uno tra Higuain e Dybala. A sei mesi dall'infortunio al ginocchio, si rivede anche Marchisio, che partirà dalla panchina al fianco di Ken, baby bomber classe 2000, nato a Vercelli da genitori ivoriani. Allora, fra poco le previsioni meteo con Paolo sotto corona. Subito dopo c'è Omnibus. Gli ospiti di Frediano Finucci di oggi sono Marta Allevato e poi Dario Fabri, Alessandro Minutorizzo, Fabio Nicolucci, Gennaro Sangiuliano e Pino Sarcina. Alle 13.30 alla prossima edizione del telegiornale. Noi ci vediamo domattina alle 7 con Omnibus News. Grazie, arrivederci. Grazie.